Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi voglio parlare di questo che in realtà è di NevaDent, l'ho comprato a Lidl ed è un irrigatore, diciamo, idropulsore dentale quindi è una sorta di spazzolino, che non è uno spazzolino, cioè è formato come uno spazzolino elettrico soltanto che al posto della testina dello spazzolino ha un getto nell'acqua ora ve lo faccio vedere questo qui appunto l'ho pagato pochissimo, 17 euro a Lidl ho visto su internet o online che costava molto di più infatti quando l'ho visto lì l'ho preso subito e l'ho anche già provato e in sostanza l'idropulsore a che cosa serve? serve a rimuovere, da quanto ho capito, il cibo tra i denti, in eccesso tra gengive e dente e un po' di placca o tartaro rimasto lì però è in teoria, se si usa con costanza una volta al giorno, ogni due giorni ne vedo aiutare da solo, rimuovendo bene tutte le tracce di cibo in eccesso a non far formare neanche placca e tartaro questo non sostituisce ovviamente una visita dal dentista quindi non è che utilizzate questo e per la dentista non ci andate più utilizzate questo e magari andate dal dentista e vi dirà che avete i denti puliti e con meno problemi ovviamente non basta utilizzare soltanto l'idropulsore ma bisogna anche utilizzare in bocca scovolini, filo interdentale, spazzolino spazzolino monosuffo nel caso sia utile piuttosto che pulisci lingua e poi anche questo fa la sua parte rivelatori di placca che sono molto utili per vedere se per caso in qualche punto della bocca non state lavando bene i denti e rimediare e appunto questo è un plus che si può utilizzare come funziona? qui c'è un serbatoio dove voi mettete l'acqua questo è ricaricabile quindi si mette nella presa, si ricarica ora spero che sia vuoto per non fare i pasticci qua c'è il tasto, schiacciate e non era vuoto quindi ho lavato una softbox anche a bio si è divertito un sacco schiacciate e spruzza l'acqua ci sono più modalità che ora non schiacci non faccio vedere perché ovviamente ho appena fatto un danno normale o soft quindi più tranquilla e niente ci sono due testine ce n'è una così e poi ce n'è anche un'altra all'interno della confezione e poi ce n'è anche una seconda all'interno della confezione e niente semplicissimo da utilizzare dovete stare attenti a non lavare tutto il bagno e tutto lo specchio comunque ora non ve lo faccio vedere perché non c'è qua sotto il lavandino azionate e andate a tra dente e dente a passare la bocca all'interno e all'esterno e quindi anche dentro qua non solo fuori e sì mi piace molto trovo che quando l'utilizzo la bocca è molto molto più pulita rispetto a quando non l'utilizzo perché chiaramente sciacqua bene tutto ha un getto potente non è che mi stacca tutto però ha un getto potente per cui diciamo che l'acqua che va in quell'intensità e in questa velocità aiuta davvero a rimuovere per bene tutto e non ho altro da aggiungere perché è molto semplice alla fine ovviamente chiedete al vostro dentista se secondo voi ne avete bisogno oppure no io seguo diversi igienisti dentali su instagram e ho visto che spesso a volte parlano anche di questo quindi mi sono incuriosita siccome sono un po' più fissata sulla pulizia della cura dei miei denti da qualche tempo mantenerli bene aiuta anche nel tempo aiuterà anche qui e là quindi è comunque un investimento per la vita e quindi l'ho preso se l'avete anche voi fatemi sapere cosa ne pensate non ho mai provato i altri quindi questa recensione si basa solo sull'utilizzo del mio primo idropulsore che è lui chi è della neva dent se non l'ho detto prima le costa 17 euro a Lidl magari mi sono andata ancora in offerta io l'ho preso qualche settimana fa ormai forse settimana scorsa non ricordo esattamente bene sì settimana scorsa quando è andato il video sul svolto alla spesa quindi qualche giorno fa qualche settimana fa e nulla vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video ciao